Tre cuccioli di cani abbandonati di cui uno finito tragicamente all'interno di un tombino è salvato dai vigili del fuoco e cani padronali lasciati incustoditi dai loro proprietari che hanno tentato di uccidere i gatti di una colonia felina. Entrambi gli episodi si sono verificati in contrada Cutrone a Sciacca e a denunciarli è la locale sezione della LAV che oggi parla di inciviltà e totale mancanza di responsabilità da parte di alcuni cittadini saccensi nei confronti degli animali. In particolare l'episodio dei cani padronali che hanno tentato di uccidere i gatti della colonia felina per la LAV è di una gravità assoluta che evidenzia come a Sciacca vi sia una completa mancanza di formazione ed educazione civica dei cittadini riguardo alla responsabilità verso gli animali di proprietà e al rispetto per quelli liberi. È inaccettabile che i gatti liberi delle colonie feline, tutelati dalla legge e soggetti a monitoraggio continuo, osserva la LAV, diventino preda di cani di proprietà lasciati senza controllo. Questo comportamento irresponsabile da parte dei proprietari non solo mette a rischio la vita dei gatti ma crea un pericolo anche per la sicurezza pubblica. La Lega Antivivisezione chiede pertanto alle autorità competenti un controllo ed un monitoraggio più stringente e continuo per vigilare su tali situazioni, specialmente nei quartieri come Cutrone e San Marco, dove episodi di questo genere sono assai frequenti. Il problema del randaggismo nella città di Sciacca, dichiara Iris Pedrazzi, non è alimentato dai cosiddetti randaggi ma dagli stessi cani di proprietà lasciati liberi, divagare incustoditi. Questi animali, oltre a rappresentare un pericolo per altri animali, costituiscono una minaccia significativa per l'incolumità delle persone. Tale negligenza inaccettabile deve essere affrontata con la massima severità, conclude la LAV, attraverso un'azione concreta per garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti gli esseri viventi.